Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Apriamo con l'A1 dove in direzione Bologna per traffico intenso ci sono rallentamenti tra Calenzano e il divio per la variante di Valico. Segnaliamo inoltre che l'area di servizio di Badia Alpino Est, sempre in direzione Bologna, è sprovvista di benzina. E sulla A15 l'area di servizio di San Benedetto in direzione Parma, è sprovvista di GPL. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in prunita. La viabilità cittadina a Firenze in viale della Toscana per lavori. Restringimento di carreggiata con senso unico verso via Virgilio. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!